Proprio la caratteristica del Pride è quello di rispondere alla violenza con l'allegria, che non è un'allegria frivola, è un'allegria deliberata, profonda, voluta proprio in ragione di questo stile, di rispondere con il sorriso alla violenza. Quindi questo era lo spirito e la violenza c'è anche stata. Francesco Simoni, 47enne e retino, insegnante di una scuola media, nel giugno 2018 aveva deciso di partecipare al Toscana Pride di Siena indossando un paio di ali da angelo. Si dice sempre il sesso dell'angelo, quello che conta nell'orientamento affettivo si va sempre a guardare, a scrutare nelle parti basse, invece quello che conta è l'orientamento affettivo, che è un fatto della personalità. Ma mentre camminava per strada a sua insaputa era stato fotografato, lo scato era poi stato postato sui social con commenti pesantissimi anche di natura omofoba. Chi l'ha postata mettendo la foto ha scritto farà cocodè, ci leggo la volontà di diffamare una persona o di metterla alla berlina in qualche maniera in ragione di una sua condizione individuale e pubblica, sociale. Da qui la decisione di presentare denuncia. Adesso gli autori di quelle frasi discriminatorie, cinque persone in tutto, andranno a processo con l'accusa di diffamazione aggravata. Proprio per la maggiore portata afflittiva dell'offesa, perché ha una potenzialità di raggiungere un numero maggiore di soggetti, indeterminato di soggetti. Il PM aveva chiesto la condanna al pagamento di 516 euro per ciascuno, ma alcuni degli indagati hanno fatto posizione. Il 26 febbraio si celebrerà la prima udienza di fronte al Tribunale di Siena. Alla sbarra l'autore del post, il blogger Francesco Giusti e l'assessore allo sport e all'Università del Comune senese Paolo Benini, che ha comunque parlato di commenti interpretati in maniera inaccettabile. A difendere due sarà l'attuale sindaco di Siena Luigi De Mossi. A questo punto poi non ci si deve meravigliare se in futuro si continuerà ad assistere ad episodi del genere, se poi il buon esempio non viene proprio dai rappresentanti delle istituzioni. Ad Arezzo da ormai tre anni ha aperto le sue porte lo sportello contro l'omofobia a cura dell'Arci Gay, uno spazio di ascolto e accoglienza aperto tutti i sabati pomeriggio dalle 16 alle 18 presso la sede dell'Arci in via Garibaldi. È un punto di accoglienza appunto che vuol raccogliere sia segnalazioni di discriminazioni, di difficoltà, di disagi, ma anche un confronto, una parola amica, trovare un'esperienza comune per tutto quello che riguarda il coming out, l'omogeneità, comunque le questioni LGBT. L'accesso è ovviamente gratuito e anche riservato proprio per garantire un luogo sicuro, offrire un posto sicuro dove possono essere raccolte anche segnalazioni ed eventualmente attivati poi legali o psicologi, comunque una rete di professionisti che ci supporta.